Ciao a tutti ragazzi, io sono Virgins di Gaming Tonight e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo su una decklist, decklist di Mutant portata dal caro Fabio Giuliano, Tentif Master Capitano Sicilia, Capitano Arancino Su, Capitano Cannolo, Garigotta Ormai in tutti i modi ti chiamiamo, Tentif Master, Fabio Giuliano, Giuliano Fabio Che poi non sarebbe neanche il mio nome corretto, perché è Fabio Salvo Giuliano, tutto attaccato Fabio Salvo Fabio Salvo Giuliano, perché sei Salvatore, come il Sud infatti dice, vuole, che Salvatore è un nome molto importante nel Sud Detto questo comunque, Mutant, oggi... Pure tu sei terroni, che cazzo vuoi? Lo so, terroni a merda, sto scherzando Niente, quindi oggi siamo qui con appunto questo bellissimo deck Cioè bellissimo il cazzo, è un'antimeta di merda, però vabbè Non è giocato antimeta, però Parliamo di questo Mutant 2K21 Ho la decklist in real, per quale motivo ragazzi? Perché boh, mi andava di portarla in real, ce l'ho del mazzo Oggi si fanno le cose professionali, l'audio sarà anche, spero, migliore del solito Tecnicamente, dato che stai registrando la nota vocale da mandarmi, quindi... Professionalità! Wow! Wow, che professionalità Possiamo partire comunque Allora, 3x di M05 e 3x di ST46 Allora, sostanzialmente, speriamo brevemente cosa fanno M05, su normal o special, add a un qualsiasi mostro mutant ST46 invece add a Spell Trap Entrambi hanno lo stesso effetto secondario Ovvero quello che si tributano e scartano di costo Per specialare, a seconda di quello che abbiamo scattato, ovvero mostro, magia, trappola È uno dei grossoni Questi due mostri hanno lo stesso effetto Se scartiamo mostro e vocamo Beast Spell, Mist, Trappola, Arsenal E beh, sono il cordon mazzo, diciamo Il 3x fantasma di GB88 Fa cagare Poi, abbiamo, ovviamente Evocano questi Beast, Mist, Arsenal, Cazzincur Chi sono questi? Un Beast, un Mist e un Arsenal Sono i tre grossoni del mazzo Allora I ratio sono abbastanza standard Diciamo, a parte quello di Beast Che di solito viene giocato in The Per Perché sono dei brick Sono dei mattoni assurdi Fan cagare in mano E sono utili solamente se hai Fusion Per fare Ultimus Che, ironicamente, potete calare Se li vedete tutti i tre in mano, ovviamente Come me Sono dei brick Che per questo vengono giocati a uno In sostanza, Beast Non può essere targettato Da effetti di mostro Dell'oppo In più, ha un effetto molto carino Che lo rende quello più forte dei tre, diciamo Che è quello che praticamente Quando l'oppo attiva una spell Noi bandiamo una carta E gli neghiamo e bandiamo quella spell Perché è molto forte Poi c'è Mist Che praticamente è Intergettabile da spell Arsenal sarà intergettabile da trappola Mist, sostanzialmente Quando l'oppo attiva una trappola Noi possiamo scartare Tutti sono in effetto quick Tranquillamente Noi possiamo scartare No, noi possiamo bandare una carta Per pescare due Che è carino, sì Ma nulla di che Ma tutto perché l'unico mazzo Diciamo gioco a trappola Molto giocato è Edlich E che non è troppo giocato Diciamo Arsenal invece È quello dei tre Il secondo migliore Mist è quello che fa più cagare Diciamo Arsenal come già detto È intergettabile da trappola Dell'oppo E possiamo bandare una Quando l'oppo attiva Un effetto di mostro Per bandare un mostro Dell'oppo Il che è molto forte Targetta Targetta il mostro che banna Poi tutti hanno un terzo effetto Che viene attivato Quando loro vengono Distrutti Una carta dell'oppo Mi raccomando Distrutti Beast ci permette di targettare Una trappola Mentre Mist ci permette Di targettare Un mostro E Arsenal Una spell Bannate E riaddarcela in mano Quindi Fanno da riciclo Diciamo Ovviamente Arsenal in questo caso Diventa il migliore E Mist diventa il migliore Perché ci fa riaddare Mostri Quindi ci fa riaddare Magari piccolini Che sono sempre importanti Quindi questo è il reparto Dei mutant Sia piccoli Che grandi Per quanto riguarda I main deck Il main deck Ci saranno Mi fermano qualche secondo Perché sto fumando La sigaretta elettronica Non fumate ragazzi Sigaretta è merda Spenditi i soldi In figurelle Successivamente Reparto Entra Per il reparto cancerogeno Abbiamo Tre pair di droll Tre pair di shifter Tre pair di ash Lui è Broken as fuck Shifter fa da Macrocosmo È tremendo E anche per questo motivo Droll non può partire Sotto shifter Però comunque ci sta Quale vediamo e vediamo Va sempre bene alla fine Tranne lui Quando topdechiamo Mentre abbiamo roba Al cimitero Sì esatto Quello Capita sempre Topdecharlo Allora sostanzialmente Ash E l'entra più comune Al gioco La lista Ribadisco una cosa È fatta Pre Banlist Quindi Quindi Molto probabilmente Ash Forza la sostituirei Con Diddy Crow Perché è veramente Importante Sto meta Anche Ghostbell Volendo Ma manco Diddy Crow Secondo me è più forte E anche Sopra di Ghostbell Secondo me C'è schoolmeister Shifter È un'entra più Importantissima È fortissima Ci sta sempre Poi abbiamo Droll Che è Versatilissima Perché è il matchup Più comune Tra virgolette Quello più forte È Drytron Ed è anche quello Che ci dà più fastidio A noi E poiché comunque Il matchup Secondo me è migliore Del formato Non a livello Di giocabilità Perché non verrà Troppo giocato Ma a livello Di comunque Forza È Drytron Diciamo che Droll è sempre forte Poi E poi anche Forte contro SS Perché non ti fanno Engage 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 Ehi che Al massimo Due volte a turno Viene utilizzata Quindi voglio dire Comunque Ci sanno qualche cosa Per fortale Riaddare Altre Dicimila volte A forte È fermo Quello è illegale Prossimo reparto Che sarebbe reparto Magie Trepper Di Mutant Fusion Sì lo so ragazzi Qui c'è una Mutant Fusion Proxata Perché Perché non mi trovo La terza Ultimamente Mi sto perdendo Mi sto perdendo Le cazzo È comune Trepper Di Mutant Evolution Lab Trepper Di Method Evolution Lab Con Mono Terraformare E poco da dire Mutant Evolution Lab Ci dà consistenza Mutant Fusion Ci fa fare fusione E Terraformare Ci dà consistenza Allora Evolution Lab È molto forte Perché praticamente Sulla attivazione Ci permette di Evocare Un mutant Di livello 4 In fuori I piccolini Dalla mano O bannato Il che non è male Perché comunque Dalla mano Può essere buona All'inizio E successivamente Da bannati Perché comunque I piccolini Verranno sempre Diciamo Bannati In ogni modo Comunque Ci sta Poi ha un effetto Comunque buono Per fare più danni Diciamo Che tutti i mossi Mutant Che controlliamo Guadagnano 100 Per ogni carta Mutant Bannata Bannata Il fondo Ma è diverso Quindi veramente Forza Possono avere Comunque un boost E massimo Diciamo Di 500 Diciamo E terzo effetto Invece Quello che Diciamo Quello forse Un po' più forte Di tutti Perché Ci permette Di mettere In fondo al mazzo Uno dei grossoni Mutant E pescare uno Quindi ci fa Sbriccare Diciamo Poi abbiamo Trefusion E terraformare Beh sarebbe Per dare Evolution Lab Con sta carta Ho avuto Pareti problemi Perché una volta L'ho messa Una volta A due Una volta A tre Una volta A uno E' un ratio Difficile Di avere Quello di Evolution Lab Trefusion E qui già Partiamo Come trefusion Trefusion Fa cagare E no Perché Questo mazzo Non è un going first E' un going second E quindi Fusion Ci sta Praticamente Fusion Ci permette di fare Da Poliminizzazione Diciamo E se l'oppo Attivato Qualcosa Nel turno In cui abbiamo Attivato Questa carta Quindi prima Ovviamente Possiamo utilizzare Come materiale Per evocare Il nostro Mosso a fusione Anche bandando Un mosso Al mazzo Infatti Evochiamo Ad esempio Sintesi Bandando due Mutant Con Attributo diverso Possiamo bandarne Uno della mano Da terreno E se l'oppo Attivato Qualcosa Nel nostro turno Possiamo anche utilizzare Possiamo anche bannare Un mosso Al mazzo Tipo Shadow Fusion Diciamo Teleport Purtroppo è ancora uno Però Sti cazzi Speciale Uno psichico Al mazzo E i piccolini Sono tutti Psichico Quindi Abbiamo sei target Ce la facciamo Alla evocarla Cioè Utilizzarla Reparto Going second Tre dark No more Ci serve Contro le board Importanti Ecco Diciamo che Comunque Il mazzo Non vuole Uticappare A parte quello Non uticappi Comunque mai Non ci fa niente Se non Combo Con Numero 100 E drag Lui Dark No more È molto forte Perché io Ho testato Tantissimo La versione Con il first E sinceramente Con quella Con in second Mi sto trovando Molto meglio Perché hai Veramente Tante risposte Al gioco Dell'oppo Soprattutto E se Ad esempio Con la going first Settimana Un secondo Fai poco Niente Diciamo Mentre Se vai primo Comunque Fai Un po' Di fatica Diciamo Perché non hai Troppe Carte forti Diciamo Hai Si Ter can be only one Può giocare Punishment No Finisce lì Sinceramente In mazze di ore Anche un salamagna Ci può Tranquillamente Giocare attorno O comunque Passarci sopra Mentre Dark Road No More Diciamo che È molto forte Come carta Anche per spegnere Le board Anche Di un mazzo Di merda Ma comunque Deve spegne E poi parti Con Le tue giocate Di merda Tipo Normal summon Zero five Ti becchiasce Passi Altro reparto Going second Contro e contro Da sto giro Cosmic Cyclone In due copie Due copie Perché non c'è spazio Uno non c'è spazio Due Va bene a due Sincere Giochiamo anche Avelli Ma Quindi va bene Anche tranquillamente A due Per Reparto che Volevo restare Twin Twister In sto mazzo Perché Diciamo che Sto meta Si preferisce Sempre giocare Di più Twin Twister Cosmic Cosmic Diciamo che Secondo me Cosmic Ci sta Mai Sto mazzo Reparto che Fa notare Quanto effettivamente Questo mazzo Sia economico Tre perdi Prosperity Mono Extravagance E Ci serve Cercare Quello che vogliamo Ricordo che Nella vecchia lista Tu avevi due Prosperity Due Extravagance Allora Sì Sinceramente Se giocassi La versione Going First Catterei Prosperity Gioverei Extravagance Perché Sono dell'idea Che se giochi Un mazzo Control Devi giocare Per forza Extravagance Prosperity Fa cagare In questa versione Going Second Dove Vuoi vedere Ad esempio Dark Lord Muir Vuoi vedere Emily Diciamo che Prosperity È molto più Forte Mentre Extravagance È Diciamo Spasitecci Mono Per Diciamo E Con la carta Che Non fa schifo Te la tieni Magari in manovverti uno dopo Poi Inizi un pochettino A fare Control Perché il mazzo È a metà Tra il Control Going First E un Going Second Perché Hai le robe Mutant Che sono abbastanza Da Going First Fare le robe Magari Spaccare le robe Ok E poi c'è Le carte Going Second Come dal Chrono More Revely E magari anche Cosmic Che ti aiutano Molto Quindi diciamo Che Magari Prosperity È meglio In questa build Però Extravaganza È un monopair È spicy Ci sta Carino Tenete a mente Una cosa Che voi potete Tranquillamente utilizzare Extravaganza Se vi prendete Ash Potete comunque Utilizzare Prosperity Quindi di conseguenza È una cosa positiva Questa cosa Ovviamente Vedrete più spesso Prosperity Che Extravaganza A meno che Non siete Fabio E quindi 3 per Di scontro D'armi pari Nulla da dire Fortissima Soprattutto in combo Con Dark Ruler Contro i mazzi combo Devasta la board E poi Monocopia Per finire Di Cry Ed Expansion Allora Parliamo di Expansion Subito Per prima cosa Ce la leghiamo Cry È un discorso Più lungo da fare Allora Expansion In essenza Almeno ci permette Di portare Un livello 4 Inferiore A Mutant Quindi M05 SD46 Poi Ha un altro effetto Dal cimitero Ma che fa cagare Neanche lo dico Quindi Cry è forte Ma va bene Non lo per Perché siamo Un po' Going in second Cry Essendo Non è Going in second Essendo che Fusion In una build Going in second È molto Più forte Rispetto a Cry Cry la giochiamo Perché comunque È forte La giochiamo In caso Se volete Sì dare Ci mettete Altra Due Cry Per quando Volete Andare Primo Inside Diciamo Che ci sta Forse Side Magari Non di Primo Ma Pochi Ma In Preferire Fusion E Cry Essenzialmente Un'altra Spolinerizzazione Tra virgolette La foto Trappola Che permette Però Di Rinescolare I Materiali Dentro Il mazzo Quindi Materiali Del cimitero Materiali Sul firme Materiali Bannati Face up Mi raccomando Tutto nel mazzo Quindi ti fa anche Un pochettino Da Riciclo Diciamo Ed è Tra virgolette Più forte Di Fusion Ma un pochissima Going in second In Fusion È meglio Bene Questo era il main deck Andiamo all'extra Nell'extra Ci ritroviamo Come link 1 Al Mirai Forte Perché possiamo linkare ST46 M05 E Fanno diventare Perlomeno Al Mirai Vabbè Ci sta Se ritroviamo Accesso Non è un problema Accesso Per supportare La nostra strategia Di fusione Link 2 Anaconda Verde Farete tipo Maio Ok Può capitare Dai Farete poche volte E Poi Trio dei Nightmare Cerbero Fenice Unicorno Cerbero Probabilmente Quello È più inutile Forse Però Ci sta Dipende Dipende dal matchup Cioè se vai contro Sky Sì Se vai contro Magari un altro mazzo Tipo Sala Ma non manco troppo E poi Mono access code Access code Perché abbiamo Cerbero Che è terra Fenice Fuoco Unicorno Oscurità Anaconda Oscurità Almirai E fuoco Quindi abbiamo diversi target Effettivamente Al cimitero Per poter spaccare Per quanto riguarda Il reparto fusione Di archetipo Trepper Di synthesis E trepper Di ultimus Perché trepper E trepper Perché Synthesis È forte Ultimus Non ce lo vogliamo Bannare completamente Allora Sì esatto Ultimus A trepper Serve molto più Come target Per sped Di borra Extravaganza Diciamo E soprattutto Per prosperity E quindi Magari viene lasciato Uno Nell'extra Perché può capitare Di tirarlo Essenzialmente Allora parliamo Di synthesis Allora Synthesis Quando viene evocato Per fusione Permette di spaccare Uno Dell'oppo E quindi ok Poi un altro effetto Poi un altro effetto Molto interessante In quick Che praticamente Lo fa diventare Uneffected Da un tipo Quindi se Dichriamo Uneffected Da mostro Diventa Uneffected Da mostro Spell Diventa Uneffected Da spell Trappola Diventa Uneffected Da trappola Il che lo protegge Anche se ad esempio Vogliamo spaccare qualcosa Dopo ci fa Magari una negazione Che ne so Savage Butturi Una qualsiasi Nazione può essere Che ovviamente Possiamo andare A negare O comunque Renderà Uneffected Synthesis E quindi Diventa Uneffected Poi se Ovviamente viene spaccato Come tutti i mutant Permette di riaddare Una carta Mutant Bannata Multimus Invece Intanto Riadda Il Mechaba E' una sottospecie Di Mechaba Perché Quando viene attivato Un effetto In quick Anche lui ovviamente Possiamo bannare Una carta Mutant Dal cimitero O che controlliamo Sul terreno Con lo stesso Tipo Sempre quindi Basso sul tipo E ne diamo Con la carta Se ad esempio Dopo ci attiva Una spell E noi banniamo Una spell Mutant E ne diamo Poi ha un secondo effetto Che quando viene spaccato Di riaddare Fino a tre carte Mutant D'accesso Però dobbiamo essere Un mostro Una spell E' una trappola Ci fa riaddare Un po' tutti Diciamo Sarebbe stato bello Riaddare tre mostri Ma ok Vabbè E' anche E' abbastanza difficile Da calare Questo mostro In questo mazzo No Quindi No se bricchi Se bricchi lo riesce a calare Quindi Se avete sfiga Lo calerete sempre Per finire l'extra deck Abbiamo Semplicemente Per finire l'extra deck Abbiamo un reparto Che qui Io non posseggo Al momento Perché è introvabile Abbiamo Numero 100 Draglubion E Come è che si chiamava Numero 46 Numero 96 Non mi ricordo No 92 Art art dragon Ah 92 Art art è vero Per quale motivo Perché Evochiamo Draglubion Effetto draglubion Evochiamo Numero 100 Con sotto Art art O Tk Sì O possiamo anche fare Molto funny Art art diciamo Detto questo ragazzi Questa era la decklist Adesso Fabio Ci vuoi raccontare Come è andato Il tuo bellissimo torneo Con questo bellissimo mazzo Allora Sì Ovviamente Il torneo è stato pre-banalist Perché La profile La dovevamo registrare Tipo due settimane fa Ci avevamo segnato tutto Per l'appunto Basta Sti cazzo di messaggi Di discord Luca Muto di discord Allora Ovviamente Quattro turni Svizzera Come sempre G1 Vado contro Dragonlink Ovviamente Vinco il dado Lo vando primo Perché è il nostro mazzo In going second Apro sia shifter Che draw Praticamente GG Quindi abbastanza GG G2 Va lui Apro con shifter Due heavily Lab E 05 Mi tiro shifter Poi alla fine Dunque si vince Abbastanza facile Comunque la mano E la OP G2 Vado contro Althergeist Non so parlare Vinco di nuovo il dado E vado secondo Lui fa le sue robe Tocca a me Giro heavily Callo sintesi Con fuggione E gg Perché non c'era più un cazzo Lui G2 Va lui Bricco male Non riesco In quel caso Manco a calare Ultimus Perché non c'era La superficione Avevo i 3 grossoni In mano Non c'era più un cazzo E perdo male G3 Lo mando primo Doppio heavily Cosmic I diriccolini Mi fa Jasmine Sulla prima heavily Poi gli tiro la seconda heavily Mi stringe la mano Praticamente gg G3 Perdo malissimo Da prankitz 2-1 Non c'è niente da dire Mi ha stuprato malamente G4 Invece contro Invo Doll Senza dogma G1 Lo vinco Praticamente Grazie a Doll Ho tutto E calo Addirittura anche Ultimus Perché Mesciaba Il tuo Mesciaba È più scarso Del mio Mesciaba G2 Bricco male Come sempre Avrò mist Arsenal Beast D'Occolo Amore Cosmic In mano Praticamente Il fotocopia E g3 Lo vinco Abbastanza easy Con shifter Quindi lo finisci Quanto? Terzo posto E 3-1 Con mutant Quindi ragazzi Rendetevi conto Della qualità Del local Di Fabio Se non sbaglio C'era anche Adesso ragazzi Fabio Ci ha preparato Anche un replay Quindi Andiamoci a godere I fantastici replay Con i misplay Di Fabio Quante ce ne sono In questo replay? Non me lo ricordo Sarò mandato Più di due settimane fa Non mi ricordo manco Se quale è il replay Quindi Figurati Ah ok Ti condivido lo schermo Penso che sia già passato GL Ah ok Vabbè Sti cazzi Good luck Sarebbe Stand by Tu vedi Shifter Scurato Ash Prosperity Evolution Lab Ed M05 Che non è male Come mano Lui Super poly Ash Meltdown Super poly Scisma Che merda Va bene Attiva meltdown Da invoked Normalized Ash Non ha visto invocation In mano Quindi si è stato scurato Gli è scartato Ash E E' andata bannata Per Shifter Tu stai bannando Anaconda Ok Unica carta bannata Per il momento Anaconda Ok Vai a bannare 6 Quindi Vai a bannare Synthesis Almirai Ultimus Ultimus Fenice Anaconda Va bene Trovi Dark Ruler Extravagance Mutant Fusion Expansion Beast E Ash Che schifo Sì Un bot Se lo sbaglio Mi addo Ash No Beast No Beast E pescare Ok Ci posso fare Va bene Attivi la terreno Ok Aspetta Ecco Primo problema Fabio Per Eh Era inutile tanto Qual è il problema Ho capito Ho fatto l'effetto di Ocean Lab di pescare Non puoi pescare Ah Eh Sorry So sorry I tuoi avversari Sono decerebrati Come Allora Allora La prossima Porca di una puttana La prossima volta Che mi dite Che Dueling Book È un sito Per gente seria Io vi mando a fanculo Perché queste cose Solo su DB Succedono Detto questo Sfuriata su DB Va bene Non potevi pescare Perché hai attivato Prosperity Peschi comunque Perché sti cazzi Va bene Fast forward Ti fa Ash Su M05 E tu hai bannato Di costo Evolution Lab Quindi volevi evocare Mist Va bene Tributa Ok Mist Va bene Vabbè La play non è illegale Per carità Hai pescato Evely Però Nel caso Evely Ti risolva la partita Va bene Va bene Ok Mutant Cry Va bene Droll Sti cazzi Le bannata Evely Perché sì E niente Ok Va bene Non ha creato Un vero e proprio vantaggio Quella cosa Va bene Seconda partita Cosmic Cyclone Fusion L'Otica Quale Ash ST46 Ed Expansion Lui vede Ariel Cold by the Grave Droll and Lock Alleyster Invocation Alleyster Invocation Ottimo Normal Alleyster Effetto Ash Cold Perché ha fatto Cold Vabbè Cioè Capace che No vabbè Non può pescare Effettivamente Però Vabbè Cioè L'avrei fatto pure io In realtà Ok Va bene Classica gioca Quanto è forte Questo mazzo Meccava passo Wow Vabbè ST46 Vabbè Ovviamente Hai giocato Shifter Sì sì ST46 Che va A cercare Vabbè Negato Di cosa Negato Expansion Expansion Effetto Può Rebornare Sì Rebornare Evocare Damazzo No Quindi Sì Evoca ST45 N05 Negato Da Cioè Da Meciaba Ok Normal Alleyster Ad Invocation Nadir Va bene Ok Quindi Acclesia Entra Va bene Effetto Callone Squamata Tirò Lancea Per Non farmi Invocation Eh sì Tu Vai a concedere La partita Vabbè Non avevi Nessun Nessun Mostro Evocato Da extra Ma lui era partito Comunque Quindi Shadow Fusion Sticazzi Prosperity Droll Expansion Lab Madonna Che merda E Ash Qua Vabbè Immagino Già Che avrei Di nuovo Attivato L'effetto Di Evolution Lab Dopo aver Fatto Prosperity Però Anche lui Porca Troia Vede Ash Droll Cazzo Sono scriptate Le mani Squamata Shadow Fusion E Alpha Ok Prosperity A top deck Dopo che lui Ti ha fatto passo Si Pensavi che Facesse qualcosa Con la mano Di marda Shakinaga Che cazzo Che cazzo La gioca Shakinaga Dai Allora Per sicurezza Ok Allora Hai bannato Cerbero Synthesis Ultimo su ultimo Sanaconda E Almirai E hai scoperto Shifter Dark Ruler M05 Beast Mist E Cosmic Cyclone Vabbè Palese M05 In mano Fattuale E rimischi il resto Nel mazzo Vabbè Cioè Rimetti in fondo Al mazzo Adesso sono pronto A vedere Evolution Lab Attivo Ash Ok Va bene Ti ha preso Ice Dragon Prison Settata Ti ha preso In controtempo M05 Sì ST46 Effetto Ad Tra parentesi Tra parentesi Poiché Luca È ritartato Come avrei attivato Evolution Lab Se Non potevo Uno Perché mi aveva tirato Droll Quindi già A prescindere Non potevo Adare con nessuno Seconda cosa Ah è nove Non ho visto Non ho visto Che Droll Te l'aveva scartato Deve essere sincero Va troppo veloce Sto simulatore Secondo te Di M05 Mi add Dovresti fare solamente Nextplay in realtà Secondo te Di M05 Mi add Veramente Un mutant Grosso Di merda No Va bene Ice Dragon Prison Che Banna M05 E ST46 Cosmic Cycron Sinceramente Giocata di merda Questa Ok Evolution Lab Attiva Reborn M05 Effetto Si add ST46 Per il turno Dopo No è il tuo turno Adesso Quindi sti cazzi Ok Effetto Banni Banni Ed evo Key Arsenal Normal Di ST46 Add Evolution Lab ST46 Effetto Banni Evolution Lab Tributi ST46 E Evoke Mist Oddio Sta arrivando No Non sta arrivando 3000 2007 Lui a questo punto Dubito che si riesca a riprendere Perché c'hai Ash E gli puoi negare Shadow Fusion Mutant Cry Ok ST46 M05 Synthesis Effetto Synthesis Sulla Summon Spacca Alpha Evoca un altro Alpha Perché si Qui arriva Il momento Mia colpa Non sapevo che Alpha Si poteva evocare Dove ho dovuto leggere Alpha Effetto Synthesis Diventa immune Ad Alpha E rimbalza Arsenal Shadow Fusion E qua Arriva una cosa brutta Per il player Di Shadow Ecco Qua Hai GG Che Non so Non so se fosse Un illegal play Il fatto di Fare Shadow Fusion Non so se Gioca Shake in half No vabbè No no Ma tu controllavi Il mossa da extra No no C'era così In sintesi Infatti Vabbè Evoca Alpha E passa Ok Tu hai già più attacco Di lui Quindi Attivi prosperity Vabbè Lo riesci a chiudere Comunque Dici tu Ash Lancea No Ok Utilissimo Utilissimo Vabbè Quanto arriva ora Evolution Lab Effetto su Arsenal E questo te lo ricordavi Te lo ricordavi Che l'avevi fatto No vabbè Vedo con le due carte in mano Penso L'ho fatto sicuro Però io conosci I can't draw Come lo sono ricordato ragazzi Come lo sono ricordato Ah Ah Hai scritto I can't Ma Hai sbagliato Ok Va bene Sì Ragazzi Vabbè Battleface Picchio È un 3000 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 2008 3000 2008 Però non lo chiudevi No non lo chiudevi Eh no perché Prendeva la metà di danni Ah Vero Capita Ma Cioè ragazzi Io non ho parole ormai Per i replay di Tentive Master Vabbè Comunque avete visto Come giocare male Questo mazzo Quindi Niente Fabio Ultime cose da dire Per quanto riguarda Questa lista di mutant E questo mazzo E i tuoi replay Ultime cose da dire No non ho niente Niente altro da dire No non ho niente altro da dire Va bene Signori Spero che il video vi sia piaciuto Insulti a Tentive Master Per quanto riguarda i suoi replay Sempre qua sotto nei commenti E niente Noi ci vediamo come al solito Insultatemi Mi da Ego boost Ego boost Eh sì Intanto non si sa La Fabio se lo insultate Fabio dice Oh sì sono importante Se mi insultate Noi ci vediamo domani alle 15 Con un nuovo video Come al solito Ciao ragazzi Ciao Ciao